Pubblico delle grandi occasioni, ieri sera per la presentazione del libro Le tonnare di Capo Granito e Sciacca, edito da Melkart Communication. Oltre all'autore Gianluca Serra, sono intervenuti lo storico Ninni Ravazza, che ha redatto la prefazione, il docente universitario Sergio Bonazzinga, l'ex sindaco Fabrizio Di Paola, legato da lunga tradizione familiare alla tonnare San Marco, il presidente del Rotary Club di Sciacca, Baldo Ficani, e il presidente del distretto Pesca, Nino Carlino, nell'ambito di una serata condotta da Salvatore Monte e che si è tenuta all'atrio delle Giunmare. La presentazione è stata registrata integralmente da Telemontecronio e andrà in onda nei prossimi giorni. Ascoltiamo adesso un estratto dell'intervento dell'autore Gianluca Serra. Questo libro nasce dall'essico familiare, nasce da un'emozione personale e familiare, ma poi va oltre. E arriva a parlare in maniera oggettiva di luoghi, persone e fatti che non mi appartengono. Ecco, la seconda parte, quella di Sciacca, è appunto nata per gemmazione, a partire da quella relativa a Granitola, dove invece c'era il cuore. Il cuore è arrivato anche a Sciacca, ma c'è arrivato non per la via familiare, attraverso lo studio, attraverso la curiosità che il dottor Ravazza citava prima, credo che sia il complimento più bello che io abbia mai ricevuto, quello che riguarda la mia curiosità. Il resto è abbastanza banale, i titoli, eccetera, li possiamo ottenere tutti. Rimanere curiosi è probabilmente il dono più importante che ciascuno di noi può ricevere dall'ambiente che ha attorno. I miei nonni, soprattutto il mio nonno materno, Giuseppe Barraco, fu rice in tantissime tonnare siciliane, soprattutto di ritorno. Non lavorò a Sciacca, ma i suoi fratelli, Girolamo e Diego, furono rice, sotto rice a Sciacca, ai tempi della famiglia di Paola, negli anni 30. fino alla metà degli anni 40, sotto Amodeo, sotto il commendatore Amodeo. Mio nonno passò da qua, nel luglio del 43, fu sfollato a Siculiana, dove era Rice, si temevano dei bombardamenti, la tonnara vista dall'alto sembrava una caserma, le caserme erano obiettivi militari. Ma la tonnara stessa era un obiettivo militare perché produceva il tonno che in scatola raggiungeva le trincee. Il tonno della Massardo Diana fu trovato nelle trincee del Carso, dove si combatté l'aspra prima guerra mondiale. Quindi il tonno di Sciacca era sul fronte. Fu sfollato e a piedi da Siculiana, con la moglie e un bambino piccolo, moglie malata di cuore, raggiunsero Sciacca, dove mio nonno aveva contezza di trovare i suoi due fratelli, che lo ospitarono nella tonnara San Marco. Rimase qualche giorno e dopo proseguì per Trapani, dove trovò per fortuna la sua casa ancora integra. L'anno dopo era aggranito la sperimentare per il primo anno la tonnara di Amodeo, 1944.